ehi la benvenuti o bentornati finalmente su questi schermi finalmente riesco a registrare un video che saranno cento anni voglio e devo registrare ma non ci riesco per mancanza di tempo per varie ed eventuali situazioni quindi sono sommersa da libri e niente iniziamo subito perché dovrei andare via mi dovrei sbrigare prima che qualcuno mi viene a chiamare e cominciamo subito a parlarvi di quello che ho letto quello che leggerò quello che quello che ho letto quello che leggerò è quello che anche un po abbandonato quello che vorrei anche leggere mi ripeterò quello che ho letto quelle che leggerò cosa ho letto cosa leggerò erano tre le domande o non mi viene la terza daniele daniele pensavo che stavano qua vabbè vedete il cartone allora iniziamo subito sto seguendo un gdl che è il gdl di angela canucciari andatela a seguire qui su youtube su instagram dove vi pare che i per super simpatica e non mi piace che la seguo perché c'è un modo di fare molto diretto a me piace a un gdl che è molto free molto libero e io riesco a seguire e in questo modo riesco anche a leggere un libro al mese forse due per me è molto allora forse eravamo rimasti qui non so se io vi ho detto ovvio avevo detto che ho letto forse si l'avevo detto che avevo letto questo per dieci minuti della gamberale perché sempre con il gdl dovevamo leggere un libro di un'autrice femminile e quindi ho letto lui per dieci minuti della gamberale e mi è anche abbastanza piaciuto questo libro credo sia abbastanza famoso parla di una ragazza ragazza persona signora femmina donna che si lascia con il marito e quindi fa una sorta di psicoterapia se così si può dire e per dieci minuti ogni giorno dovrà fare una cosa diversa e succedono varie varie cose inerenti a questo piccolo esercizio che dovrà fare ogni giorno mi è piaciuto c'è stato un libro che non mi è piaciuto di della gamberale ma questo rientra di nuovo tra i miei non preferiti ma un libro carino poi sempre per il gdl ho letto questo finché il caffè è caldo questo qui che è un libro che non mi è assolutissimamente piaciuto è un libro che tocca anche dei temi temi abbastanza seri come la perdita come l'amore come tutti questi sentimenti e tutte queste situazioni il libro è stato tanto decantato ma a parer mio non mi piace come è scritto non mi piace cioè il concetto di descrivere descrivere queste varie situazioni potrebbe anche essere carino ma forse evidentemente sono io che non riesco a capire questa scrittura e quindi non mi è piaciuto proprio come vengono descritte le cose quindi no mi dispiace che questo libro tanto decantato ma io non l'ho sopportato a febbraio ho anche letto questo perché a febbraio c'era San Valentino inerente a San Valentino ho cominciato a leggere lui che è massimo gramellini l'ultima riga delle favole allora questo libro non l'ho terminato non l'ho terminato perché 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 è un po particolare parla di tutto un giro un girone che fa che fa che fa non so come dirlo dentro ci stanno anche dei disegni che adesso non trovo vediamo eh vi leggo vi leggo il quello che c'è scritto nella quarta di copertina e c'è scritto vuole dirmi con parole sensate in quale incubo mi trovo alle terme dell'anima signore sono morto dunque a me non risulta lei è ricoverato qui per ricominciare a vivere quindi questa è la descrizione immagino e credo Thomas è una persona come tante e come tante crede poco in se stesso subisce la vita ed è convinto di non possedere gli strumenti per cambiarla ma una sera si trova proiettato in un luogo sconosciuto che riaccende in lui quella scintilla di curiosità quindi in poche parole questo Thomas farà un viaggio nella sua anima è una sorta di racconto dantesco se così ma proprio oggi come se io fossi una che ha letto Dante ma vabbè il genere è quello ci sono dei gironi vari episodi in cui questo ragazzo vari episodi che questo ragazzo farà vari episodi, vari giri che questo ragazzo farà nella sua anima nel frattempo mi si scarica la batteria allora niente vi dicevo che questo libro è descritto in questo modo sono arrivata forse a più della metà non so se continuarlo oppure no non ne ho idea e si sono arrivata a più della metà ma non so sicura di volerlo continuare non lo so poi vedrò poi ho iniziato a leggere sempre con Angela perchè loro ne parlano tanto il primo volume di Poldark che non ho proseguito per mancanza di tempo perchè poi ho cominciato a leggere altro un secondo eh niente questo è il motivo per cui io ci mettevo tanto a registrare un video perchè non riesco a trovare il tempo il momento per stare da sola purtroppo quindi stavo dicendo che ho cominciato a leggere il primo volume di Poldark mi piace ho letto pochissime pagine veramente poche perchè sono pagina 19 ma purtroppo le pagine sono molto molto piene anche se non so scritte piccole eh però sono molto piene l'interlinea è non proprio larghissima non è scritto piccolo però ecco ci devo dedicare del tempo lo continuerò a leggere anche questo era un tema ehm di un mese del 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 GDL di Angela che però quel mese non ho seguito poi andando avanti ho letto ehm lui di Margaret Mazzantini non ti muovere questo credo che sia iper super famoso chi non ha visto il film ma non mi soffermo perchè è iper famoso è bellissimo naturalmente poi la mia copertina rigida che mi accompagna tatatata però questi secondo me li devo collezionare proprio e niente ho letto questo anche questo erano belle paginette diciamo che mi so proprio 295 pagine diciamo che posso essere fiera di me ehm perché ho letto abbastanza dall'inizio dell'anno e poi l'ultimo arrivato è lui che l'ho terminato oggi terminato un parolone non so neanche se lo terminerò perchè ormai ho scoperto il colpevole e quindi bye bye Elena Molini piccola libreria con delitto questo mi è stato tra virgolette omaggiato perchè mi sono scritta al club dei lettori che mi mandano la rivista è possibile? e ho ricevuto quattro libri tra cui anche questo e altri due e questo libro non mi è piaciuto ovviamente no è un giallo ma ci sono delle descrizioni che non servono a niente a nessuno ma perchè c'è chi frega che quella vi ha lavorato a te è incinta che elemento è ai fini di questa di questo libro una storia tra so come spiegarvi allora che cazzo che sto a fare? non lo so che sto a fare vabbè che poi mi sono comprata questo ma non lo so usare che c'è qui che non va vabbè detto ciò questo libro è scritto secondo me un po' adolescenziale in alcuni punti un po' è un fritto misto ma non no perchè poi fa delle citazioni di alcuni libri riporta delle frasi di alcuni libri intreccia delle citazioni di alcuni libri che secondo me ai fini del libro non c'entrano perchè devi scrivere un libro scrivilo a modo tuo senza riportare di frasi cioè no un grandissimo no no non mi piace non mi piace per questo mese che è luglio questo che io naturalmente ho cominciato ho finito da poco uno e quindi ne comincerò adesso un altro il tema di questo mese era un libro con la copertina estiva io però non avevo uno abbastanza estivo e quindi ho optato per un altro libro allora diciamo che in realtà i libri che avrei voluto leggere erano questi due ok con la copertina un po' estiva solo che questo leggendo poi la descrizione diciamo a parte che è scritto un po' minuscolino poi le pagine sono altre 300 e la storia era un po' pesantocchia e quindi non era il momento giusto per lui un cuore rosso rubino in un freddo mare blu di cui ho sentito anche abbastanza parlare ma non era il suo momento non lo è questo è un altro libro di quelli che mi è stato omaggiato col club del lettore ma non ne ho proprio mai sentito parlare anche se credo che forse la storia ricordi un po' il cacciatore di aquiloni e le corrispose su quelle zone Christine Hannah racconta la migrazione causata dalla Dust Brown è una vicenda vincente storia d'amore di coraggio e di sacrificio che combina un realismo crudo con personaggi emozionanti una prosa lirica che risuona brillante e vera dalla prima riga anche questo mi sembra un po' leggermente pesantello poi ne avevo selezionati degli altri avevo selezionato le il profumo delle foglie di limone che mi sembrava un po' più andante anche se che c'ha dell'estivo si perché questa entra dentro un'acqua e poi il limone comunque è un frutto abbastanza estivo poi avevo selezionato la ladra di coralli e comunque il corallo è una cosa un vabbè il corallo sta nel mare ok e poi questo che è il silenzio dell'onda di Gerrico caro caro figlio questa è una storia ambientata nella Francia dell'ottocento se non erro sì quindi assolutamente non era adesso il suo momento e questa è una storia un po' toccante questo l'avrei anche affrontato non so perché ma pelle mi ispirava un po' di più e poi ero anche un po' attentata a riprendere questa lettura che non mi dispiaceva ma che tentendo a terminare perché è scritta microscopica proprio e comunque l'isola di Arturo mi sembra un'ambientazione molto estiva e non è detto che non la riprenderò comunque detto ciò dopo tutta sta macedonia avevo anche selezionato donne che comprano fiori perché sulla copertina ci sono tutti i papaveri rossi la copertina è tutta celeste e il papavero anche un fiore che mi ricorda abbastanza l'estate non ce l'ho qui da farvelo vedere perché non lo so portato al mare infatti ce l'ho al mare detto ciò dopo tutta sta selezione che cosa ho fatto io? ne ho comprato un altro e appunto inizierò lui e mi sembrava un'ambientazione molto più estiva è lì McNamara colazione in riva al mare ed è appunto una lettura un po' più leggera perché avrei avrei bisogno di una lettura sotto l'ombrellone molto più estiva molto più leggera e molto più tutto non escludo il fatto che come vi ho detto vorrei continuare a leggere lui non so come né quando e e lui mi ispira però leggerò sicuramente donne che comprano fiori perché l'ho lasciato al mare con l'intento proprio di cominciarlo perché era una copertina che mi ispira e poi il prossimo tema del prossimo mese è leggere un libro di una casa editrice siccome che ho tanti filtrinelli comincerò lui sicuramente adesso siccome io sono in ritardo sempre inizierò a leggere lui per il tema che sarà per passare che era nel mese di luglio ma comunque io la vedo una copertina estiva e una lettura estiva perché colazione in riva al mare c'è più estiva di questa in più ho anche acquistato altre letture estive non contenta del mio bottino ho acquistato altre letture sul libraccio sempre sì sempre della Newton Compton editori perché a me questa quando leggo dei libri della Newton Compton non mi risultano ma anche se qualcuno mi sdegna questa casa editrice forse evidentemente io sono semplice ignorante non lo so però i libri che leggo di questa casa editrice mi piacciono sempre molto e quindi ne ho acquistati degli altri inizierò lui e niente il mio video finalmente l'ho portato a termine dopo tanti tante peripezzo io sono riuscita a portarlo a termine e niente vorrei sì continuare a leggere altro pure questo le foglie di limone è carino ma proprio questo perché perché è scritto piccolo voi forse non vedrete benissimo però perché questo pure pure questo qui è scritto piccolo invece caro figlio alla fine la sua interlinea è molto più larga quindi questo lo apriamo? sì apriamo questo ha la portina rigida che mi piace a me vediamo vediamo eh vediamo di cosa stiamo parlando secondo me sì questo ha un'ambientazione tipo osseini capito? quelle scritture così così eh oddio pure questo no forse no c'ha un una scrittura molto marcata però le pagine sono molto molto piene molto piene oh che carino lilla c'è guardate che caro oddio c'è lilla o è grigio lilla ho detto lilla vabbè bello se sì volete sapere di cosa parla questo libro? ve lo dico subito texas 1934 milioni di persone sono rimaste senza lavoro la siccità ha distrutto le grandi pianure quindi non c'entra nulla con quello che immaginavo fate finta che per tutto il tempo non vi ho detto nulla vabbè ma voi guardate i miei video perché so spontanei non perché io sia una culturata di libri io li leggo mi piace leggerli mi piace dirvi cosa ne penso io spontaneamente ma non perché io sia una culturata di libri perché mi addentro mi piacciono ma a fatica riesco a leggerne e niente gli agricoltori stanno combattendo per non perdere le loro terre e le loro fonte e la loro fonte di sostentamento dal momento che le coltivazioni avvizziscono irrimediabilmente l'acqua si sta prosciugando e le tempeste di polvere e sabbia minacciano di seperlirli tutti uno dei periodi più bui della grande depressione l'era del dust ball è arrivato con un'implacabile vendetta in questo tempo incerto e pericoloso Elsa Martinelli una donna e madre coraggiosa cerca in tutti i modi di salvare la sua famiglia che è la fattoria dove vive l'unica vera casa che abbia mai avuto non riesco a leggere perché vedo anche poco non capisco Elsa Martinelli California una premiata autrice statunitense con oltre 20 romanzi all'attivo tra cui il best terror mondiale Lucy Nignolo che ha venduto oltre 2 milioni di copie negli Stati Uniti ed è stato obbligato in 30 paesi mi piace perché c'ha un po' per fine rigida detto detto ciò io vi saluto altrimenti sto video diventa infinito e ci vediamo in un prossimo video ciao